Emanuele Macron ci ha definiti vomitevoli, shinichi, irresponsabili e qui la stampa italiana a dire che ha detto Macron che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabili Emanuele Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinichi Emanuele Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole e chi come la Francia continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni Macron perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei! Non accettiamo lezioni! Chiaro?